Giustificazione, va detto che era molto distante da una volta, non c'è fatto comunque un figurone, ecco. Intervento efficace del difensore che intercette il tacco duro, anche troppo secondo l'arbitro che mette già a mano al cartellino. Occhio al tocco in mezzo, azione che finisce così. Duello tutto di forza, brutto tacco, da espulsione questo. Farsi a speller, la squadra già sopra, gol arrivato sugli sviluppi, un calcio in angolo battuto davvero bene. Davvero una grande giocata la pallina attiva. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa esce dell'arbitro. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. Intervento in scivolata, ma che prende lentamente le gambe dell'avversario. Azione che si fa interessante. Potenzione ideale. Punta la porta. E con questa palla, intercettando la traiettoria del passato. Davvero brutto intervento da giallo. Dovizzi. Occhio alla ripartezza. Possesso gestito male, buono recupero. Palla che esce, sarà parolaterale. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? È iniziato il conto alla rovescia, Pier. Meno dieci minuti al novantesimo. Grazie, Matteo Barzaghi. Sempre sul pezzo. Vivo. Io andrei da Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Meno due al novantesimo, Pier. Grazie per l'aggiornamento, Matteo. Chiamaci, ci saranno novitati. Contrasino eccezionale. Brutto intervento, rischio è rotto.